Presentata nei saloni della Camera di Commercio di Teramo, la 29esima edizione della FAT, acronimo per Fiera dell'Agricoltura di Teramo, che si svolgerà dall'11 al 14 maggio prossimi, nell'area antistante, lo stadio Bonolis di Piano D'Accio. Quest'anno l'evento fieristico teramano è stato insignito dalla Regione Abruzzo del riconoscimento di fiera regionale. Le novità principali di quest'anno? Le novità principali di quest'anno, innanzitutto, lavoreremo molto di più sulla comunicazione. Abbiamo creato l'acronimo di FAT, proprio per rendere un attimino la fiera identificabile anche all'esterno della nostra città. Ci saranno novità anche sulla viabilità, perché negli anni passati c'erano molti problemi, e quindi proprio per questo abbiamo creato tre nuovi parcheggi che vanno a recuperare circa mille posti auto. In più abbiamo anche un percorso riservato per le persone diversamente abili, che potranno accedere all'interno della fiera senza, tra l'altro, subire il problema del traffico. Avranno una strada dedicata a loro. Ad affiancare il Comune di Teramo nella realizzazione della Kermess dedicata all'agricoltura, ci sarà un comitato fiera costituito dai rappresentanti dell'Istituto di Popparozzi, l'Università di Teramo, la Coldiretti, la CIA, il Consorzio Agrario, il DMC, Gran Sasso Laga, il BIM, l'IZS Caporale e la Camera di Commercio. Quale mission, lei pensa, debba avere questa fiera dell'agricoltura? Diciamo due finalità principali. Uno è quello di dare respiro alle aziende agricole che hanno subito gravi danni dagli eventi calamitosi di quest'inverno e quindi riposizionare queste aziende all'interno di un contesto provinciale importante. E poi il secondo, che ritengo che sia pregnante rispetto al primo, quello di riportare le famiglie consumatrici a comprare in azienda, ovvero quello di avvicinare il mondo della produzione agricola locale alle famiglie consumatrici. La Coldiretti, per esempio, cosa consiglia ai giovani di tornare a lavorare in campagna? Questa è l'aspettativa del futuro dell'agricoltura. Oggi molti giovani, anche se in Abruzzo con la regione abbiamo fatto il piano di sviluppo rurale, il nuovo insediamento, ancora non abbiamo delle risposte, ma c'è ancora qualche giorno d'attesa. I giovani piace sempre più l'agricoltura, vorrebbero tornare a fare il nostro lavoro, quindi è un bene perché comunque finiscono gli studi se abbiamo gente laureata che torna in agricoltura e scommette in questo lavoro. La 29esima Fiera dell'Agricoltura di Teramo si svolgerà dunque, come sempre, a piano d'accio, inascoltate le tante richieste dei commercianti teramani che chiedevano di realizzarla nel centro storico cittadino per rilanciare il capoluogo. Ma il Comune ha pensato ad un contentino, organizzando in centro due appuntamenti di avvicinamento all'evento, il 9 aprile e il 7 maggio, dal titolo Orti e Giardini. Grazie. 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 Grazie.